Stavo praticando molto tranquillo a Monticello con mio padre quando è arrivata questa chiamata per la wildcard della Junior Ryder Cup e quindi sono qua. È stata una settimana incredibile, piena di emozioni, la squadra è qualcosa di unico, il capitano veramente straordinario, ci dava sempre una carica pazzesca prima di ogni giro, andavamo sul team molto convinti grazie alle sue indicazioni e tutta la sua esperienza, la passata. Abbiamo fatto i primi due giri al nazionale con i doppi dove ho giocato con Francesca che ha giocato un golf straordinario, io ho fatto il mio però diciamo che lei è stata veramente fondamentale, mentre oggi al Marco Simone è stata una giornata unica dove ho potuto giocare veramente un bel golf e anche nei momenti decisivi sono stato, nei momenti importanti sono stato molto decisivo e è stata una giornata indimenticabile. Spero di poter diventare un professionista e dare il meglio di me nel corso degli anni e consiglio a tutti di continuare a inseguire il loro sogno del golf perché è veramente qualcosa di unico poter giocare in campi come questi.